In sostanza si tratta di un provvedimento che non ci sentiamo di contrastare e che cercheremo però ancora di migliorare con altre proposte emendative che presenteremo qui in Aula. Fortuna che siamo arrivati noi in Parlamento perché attraverso i nostri suggerimenti il Governo è finalmente riuscito a tirare fuori qualcosa di buono per l'agricoltura. Chiaramente lo consideriamo un inizio. Il lavoro da fare è ancora tanto come tante sono le emergenze agricole non trattate in questo provvedimento e sulle quali non smetteremo di incalzare. Ed è un inizio, voglio ricordarlo oggi, anche quello del mandato di tre nuovi sindaci a 5 stelle, per cui colgo l'occasione di augurare buon lavoro a Rosa Coppozzo, Sean Wheeler e Roberto Falcone. Grazie. Grazie, onorevole Benedetti. Ha scritto a parlare il deputato Pastorelli. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente, signore rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Il decreto legge 51 del 2015, così come il disegno di legge di conversione in esame, incidono profondamente su due settori centrali nell'agricoltura italiana, quello lattiero-gaseareo e quello olivicolo. Il pacchetto contenute nel decreto delinea una strategia chiara, tutelare e rendere più competitivi i settori agroalimentari in questione, pur mantenendo alti i livelli qualitativi delle produzioni. In questo senso devono, infatti, leggersi quelle misure con riferimento al settore caseario, volte a promuovere, più che a rafforzare, relazioni contrattuali equilibrate all'interno della filiera. A tutelare il produttore, quale contraente debole, ad adeguare la normativa interna a quella europea in tema di organizzazioni interprofessionali, ma è anche nel settore olivicolo, rispetto al quale ho da sempre richiamato l'attenzione vostra e del Governo, che oggi si gioca una partita importante. Assistiamo, infatti, da un lato a un progressivo impoverimento qualitativo e quantitativo delle produzioni italiane, specie quelle di piccole dimensioni. Mentre dall'altro i mercati, in primis quello europeo, ci chiedono quantità sempre maggiori di prodotto, riconoscendone l'assoluta eccellenza. I nostri piccoli produttori olivicoli stanno, infatti, affrontando un durissimo periodo di crisi, nel quale, oltre alle ben note calamità atmosferiche, sono intervenuti anche altri frattori di danno, quali fitopatie e infestazioni. E non mi riferisco solo a quanto recentemente patito dagli agricoltori delle cese con la xylella fastidiosa, ma anche agli interi raccolti persi dalle piccole aziende del centro d'Italia a causa della moscolearia. Ecco, prendo volentieri atto del fatto che il Decreto numero 51 del 2015 rispecchia e concretizza interventi che il sottoscritto ha costantemente sollecitato nelle opportuni sedi istituzionali e politiche. Un piano di intervento, a sostegno delle piccole e medie imprese olivicole, così come l'utilizzo di risorse del Fondo di Solidarità Nazionale per i danni derivati da fitopatie e alluvioni, sono strumenti essenziali per il sostegno e il rilancio del settore. Se questo è il quadro generale all'interno del quale ci si muove, segnalo all'attenzione degli onorevoli colleghi la necessità di ampliare il più possibile l'ambito di applicazione di questi strumenti, estendendoli a situazioni non contemplate dal decreto ma ugualmente critiche, come nel caso appunto delle infestazioni da moscolearia. Una necessità, quest'ultima, rilevata all'unanimità della stessa Commissione Ambiente e segnalata come osservazione nel parete formulato su questo disegno di legge. La politica è chiamata a dare risposte concrete, a problemi concreti. Il decreto legge 51, con uno sferso commendevole, cerca di assolvere a questo compito. Mettendo in campo soluzioni e politiche adeguate, è nostro dovere, in sede di conversione, integrarle e, se possibile, migliorarle. Grazie. Grazie, onorevole Pastorelli. È scritto a parlare il deputato Rocco Palese. Prego, ne ha facoltà, onorevole Palese. Grazie, signora Presidente. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli collega. In quest'Aula inizia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 51 del 2015, legante interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Rilevo al riguardo che se da un lato appare condivisibile l'impianto generale delle norme in esso contenuto, aventi carattere di necessità e d'urgenza per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, il settore agricolo, le ario e le imprese agricole, che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali.